E' in carcere da 46 anni Leonard Pelletier, carcere negli Stati Uniti d'America. Questa è un'infamia perché ha 77 anni e in carcere non gli hanno concesso il processo d'appello e gli è stato negato ufficialmente ed è stata orchestrata una vera e propria campagna di disinformazione per impedire che avesse la grazia. Questa è un'infamia, è un'infamia per Leonard Pelletier, è un'infamia del sistema carcerario degli Stati Uniti d'America. Ricordate le carceri fuori dal territorio americano come Abu Ghraib in Iraq? Vi ricordate Guantanamo? Anche Guantanamo è fuori dal territorio americano in modo da poter torturare, ma fino all'infinito, con la crudeltà più spinta. I prigionieri che, guardate caso, è un caso, che non siano bianchi, sono tutti o neri o bruni. Ebbene, ancora, Guantanamo esiste ancora, è un'infamia. Come è un'infamia il fatto che questo settantasettenne, Leonard Pelletier, sia ancora in carcere. Io mi unisco a tutti coloro che ne chiedono a gran voce la sua liberazione. Liberiamo Leonard Pelletier.